Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni in quanto domani dovrebbe avvenire un incontro proprio a tema riforma previdenziale con l'ipotesi di integrare alla riforma una revisione dei fondi integrativi. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale e naturalmente è tutto gratuito. Domani finalmente si terrà il tavolo di lavoro in tema di riforma pensioni dove si discuterà della riforma previdenziale tra Giorgia Meloni, Marina Calderone e il Ministero del Lavoro. Al momento abbiamo solo diverse bozze di quella che potrebbe essere la futura riforma delle pensioni con quota 102 modificata o una quota 41 di tipo universale. La cosa che è certa è che la riforma strutturale delle pensioni dovrà attendere fino alla fine del prossimo anno, ovvero del 2024, per poter iniziare ad ingranare, momento in cui dovrebbe essere realizzata una quota 41, come abbiamo detto prima, universale, ovvero senza limite di età. Inoltre si vocifera che nel tavolo di domani si potrebbe discutere anche dei cosiddetti fondi integrativi, quelli che potrebbero salvare moltissimi pensionati italiani, ovvero quelli che potrebbero vedersi slittare l'età di pensionamento ben oltre la soglia dei 70 anni. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.